Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi, il tuo contributo è importante. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati coinvolti in un incidente stradale venerdì sera, 12 luglio. Dopo aver partecipato a un evento serale e scattato le consuete foto, i due sono saliti su un'auto con il simbolo della P di principiante sull'unotto posteriore. Durante una diretta social con i fan, si vede chiaramente la macchina con loro a bordo andare a sbattere. La notizia è stata resa nota da una fan che gestisce una pagina Instagram dedicata alla coppia. Nella diretta si vede Giuseppe Garibaldi salutare i fan presenti poco prima dell'incidente. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Ma cosa c'è tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? I due protagonisti del Grande Fratello 2023 sono stati invitati a un evento in Sicilia, insieme. Solo una settimana fa, una segnalazione a Dejanira Marzano li ha visti insieme a Roma Termini, mentre passeggiavano per le vie della capitale. Sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno trascorso una notte in hotel ha dichiarato Dejanira Marzano su Radio Marte. Giuseppe Garibaldi ha affermato, sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio viverla come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. D'altra parte, Beatrice Luzzi ha detto, tra noi, come ho sempre detto, c'era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite. Quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna. E voi, cosa ne pensate di questa storia d'amore? Fatecelo sapere nei commenti.